Mi piace molto il calzoncino premio che ho provato oggi, è molto avvolgente, ha solo due cuciture, una interna e una esterna. Il fondo pantalone è a taglio vivo, non stringe in fondo. Comunque a noi professionisti dà molto fastidio quando senti l'elastico che comprime la gamba in un punto. Non si muove, ha una struttura qui che sostiene il pantaloncino e non lo fa scendere. Le bretelle sono senza cuciture, non lasciano segni, non danno fastidio. Il fondello è il progetto X2, l'uso già da due anni, mi trova molto bene, non ho mai avuto nessun problema. Io non ho neanche mai usato creme per i fondelli, non ho tagli di nessun persone. Grazie per la visione